Start, tutto è pronto, quattordicesima edizione di Landred, partite! In pista grande, 2200 metri, Rife dall'esterno, Buffera all'interno, i due precedono Sunset Key, Gritta Ventura all'esterno tra i primi, ha fatto partenza Auri Touch, poi Maeva e Dratonta, Acquileia in coda Naldina, Pamparana e Rife davanti su Gritta Ventura, Buffera, Acquileia, questa è la prima linea, con la parte sinistra del tracciato in coda e Pamparana, intanto è davanti e Rife su Buffera all'esterno, intanto Gritta Ventura ha avuto come un'incertezza, si riprende, poi all'esterno riconosciamo anche Auri Touch, Sunset Key, poi Maeva di Ibreme, in coda sempre Pamparana, Zattera e Nautilia, e Rife, Buffera, Acquileia, Gritta Ventura, Sunset Key, Maeva e Auri Touch, Stremeli Vintage, Fides e Razio, Dratonta, nelle prime posizioni, Nautilia che segue Auri Touch, e Rife che prova a scappare da Buffera, Aquileia, da Gritta Ventura, da Sunset Key, poi da Maeva di Ibreme, Auri Touch che aspetta il più possibile, Nautilia, Fides e Razio, Dratonta, tanto è Rife scappa da Buffera richiesta, allargo di tutti, muove Sunset Key, pedinata da Auri Touch, e Rife, Buffera in fuga, da Estremeli Vintage, che mi sembra abbia trovato un varco al centro del cuneo, con Rife in fuga, da Buffera, Sunset Key, e poi Auri Touch, Rife in fuga, da Estremeli Vintage, da Buffera, da Auri Touch, da Sunset Key, con Rife sempre in vantaggio, poi allargo di tutti la rincorsa di, potrebbe essere Zattera insieme a Pamparana, visto che Auri Touch non c'è, vediamo un po', Rife è in vantaggio, Rife, Naldina dovrebbe essere, e Rife davanti, e poi per il secondo e terzo, Naldina e Pamparana. Dovrebbe essere, e Rife numero 6, Salvatore Sulas per la FV, 6, e Rife secondo il 5 di Naldina, terzo dalla coda del gruppo, Pamparana numero 8, 6, 5, 8, e poi Auri Touch e Sunset Key, 6, 5, 8, 1, 2, 4, questo è l'ordine d'arrivo dell'Andred, che va a Casa Botti, è tutto. Fabio? Aspettiamo il rientro del vincitore di questo premio Andred, sponsored by Maidan, e in Rife con... Com'è? Com'è?